Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo nuovo episodio della Disney Princess Challenge. Allora, in questa settimana tutta scombussolata dalle challenge, ci troviamo mercoledì a vedere la Disney Princess, like what the heck? Comunque, nello scorso episodio mi avete confermato anche voi che non sono io ad avere le trabegole, ma il gioco, perché era stato il compleanno della povera Bianca l'episodio precedente. Il fatto è che fra l'episodio prima e l'episodio scorso c'è stata una settimana di pausa e tipo per me erano passati secoli e millenni. Quando nello scorso episodio è arrivata la notifica del compleanno di Bianca mi sono detta tipo ma questo è un déjà vu, in che senso? E infatti mi avete confermato la cosa, quindi sono andata nel cas con il trucco e l'ho rimessa adulta in modo che insomma si viva la sua età e muoia quando è il momento e non prima del tempo. E niente, stiamo riprendendo esattamente da dove ci eravamo lasciati, non ho manco premuto play, io ho memoria che era il compleanno di qualcuno, esattamente di Paolino, che avevamo detto lo festeggiamo quando torniamo a casa, solo che io qua ho una situazione disastrata da quello che ho visto, quindi vediamo un attimo di fare mente locale e di sistemare il più possibile. Intanto facciamo le docce a chi deve farle, abbiamo Bianca che è svenuta per strada, molto bene, e è arrivato il momento per Diego di oltre iscriversi all'università, che lo facciamo subito, ma anche di domandare le borse di studio, come dicevamo l'altra volta, perché tutti i fratelli di Ella, tranne Ella stessa, andranno all'università. Però non è che viviamo e navighiamo nell'oro, quindi chiederemo delle borse di studio, allora per lui sono possibili queste due e quindi io provo a chiedere queste due e vediamo un attimo se mi vengono concesse. Basterebbe anche solo una delle due in modo da insomma arginare un po'. E dopo appunto mandiamo la domanda di iscrizione all'università. E qui non ci resta che, no, piangere era il film, non ci resta che aspettare. E, 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 dopo di che Ella mi avete dato un sacco di consigli, secondo voi cosa potrebbe fare? Ma io me la vedo bene come casalinga, quindi mi piacerebbe, come vi dicevo, che avesse delle abitudini e tipo sveglia tutte le mattine alla stessa ora, preparare il pranzo al sacco, ehm, per i figli magari, perché i fratelli sono tanti, quindi si può provare, ma io dico per quando avrà figli. E vorrei anche che cominciasse a lavorare a maglia e magari vendesse gli oggetti su Plopsi si chiama, vero? Non mi ricordo più. Quindi le compriamo una cesta che le mettiamo nell'inventario e utilizziamo Asap. Allora, ehm, dobbiamo festeggiare Paolino, abbiamo detto, niente festa di compleanno, però prepariamo la torta in modo da potergli far soffiare le candeline. Per il fattore doccia qua mi sembra che a parte lei che stava dormendo ci fossimo tutti. Qua poi si è anche rotta l'asciugatrice, mo con la fiacchetta facciamo tutto. Allora, cominciamo, vabbè oddio, un po' prestino forse chiamare i fratelli giù, anche perché fra poco prendo le vanno via, quindi non è che... Vabbè, noi ci proviamo. Lei è distrutta, quindi lascerei stare. Vediamo. Inoltre magari adesso ci concentriamo un po' di più sulla carriera di Bianca, visto che non è anziana come pensavamo, ha ancora un sacco di tempo per potersi dedicare al lavoro e ora che comunque i ragazzi sono molto più grandi e molto più indipendenti possiamo veramente fare conteggi completamente diversi rispetto a prima. Benissimo, soffiamo le candeline Paolino, tanti auguri. Sto giro sì invece che è il tuo compleanno. Insomma è anche ora, orca miseria. Mi sono trovata un bambino davanti. Bella è gasatissima comunque. Però qua... Qui c'è un bug strano. Di solito non li abbiamo mai. Ce la faranno i nostri eroi, sennò lo modifico nel CAS. Non c'è problema. Quante volte puoi farti festeggiare? Niente ragazzi. Allora io ho il trucco già attivo e quindi niente, lo faccio adolescente nel CAS così gli cambio anche già gli abiti e tutto quanto. Ecco Paolino, gli ho messo questa... come sa chi ha? Questo baffetti, barbetta, questi... no, baffetti se qua sopra, barbetta, non me veniva. Comunque questo è lui con gli abiti quotidiani, formali, sportivi, da notte, da festa, costume da bagno, abiti per il caldo e abiti per il freddo. Torniamo a noi. No raga, questa ve la devo dire. Rientro in gioco e mi accorgo che l'icona di Paolo è davanti l'icona di Diego. Dico ma com'è possibile se Paolo è più giovane di Diego? Qua vanno in ordine di età. Vado e mi accorgo che Paolo era già sul punto di diventare giovane adulto. Cioè c'è un bug con l'età pauroso e quindi con i trucchi mi è toccato acquistare la pozione della giovinezza e riportarlo all'inizio dell'età adolescenziale. Sono rientrata nel CAS, sono uscita e lui torna nell'ordine giusto. Tutti i trucchi di cui io vi parlo li trovate tranquillamente su Google, non serve che io vi dica assolutamente nulla, basta rompersi a fare una breve ricerca online. Ad ogni modo questa è la novità. Cioè vabbè, grazie. Perché tu non sei in grado? Eh, ok. Quindi gli ho semplicemente aggiunto i punti che mi servivano per comprare la pozione. Quindi lui è rimasto esattamente come era prima. La cosa che mi scoccia è che appunto a me nelle challenge piace non usare i trucchi, visto che non sono ammessi. Però se ci sono questi bug qua, la challenge perde un po' anche senso, no? Quindi vabbè, vi necessita virtù. Ad ogni modo. Questa poi la butto via perché non sfama niente e i miei figli diventano delle palle da golf. Allora, noi per discorso lavorativo abbiamo cominciato a farla. andare, visto che c'è lei a casa tutti i giorni. Quindi, ok. Questo dovrebbe rendere anche un po' più semplice il discorso di promozioni e quant'altro. Anche se dobbiamo ancora arrivare al livello 8 di composizione floreale, a prescindere da tutto il resto. Aspettate, qua ho visto che c'era un po' di roba da far evolvere, ma ho preferito, scusatemi, aspettare il buio in modo da vedere meglio eventuali sbrillucicchi. Ad ogni modo, devo anche cominciare a pian pianino decidere dove mandare a vivere Ella e arredare la casa. Non volevo fare una casa troppo costosa, anche perché i soldi saranno quelli della vendita di questa. Quindi non l'arrederò in maniera super fancy e con cose che costano un occhio da testa. Però volevo una casa carina, arredata carina, ecco. Quindi mi serve un po' di tempo e potrei cogliere l'occasione... Orca, aspettate un attimo che questa mi crepa di freddo. Vorrei cogliere l'occasione, che al momento siamo ancora qui, per darci dentro nel sistemare la casa. Chiaramente io vorrei trasferirmi senza i fratelli, quindi una volta che gli ultimi due, gli gemelli, se ne andranno all'università, ecco che entriamo in gioco noi con la nuova casa. Perché poi la casa avrà delle stanze in più che saranno addibite a stanze per eventuali, anzi senza eventuali, per futuri figli di Ella. Ora, io devo ancora decidere Ella effettivamente quanti ne avrà. Può averne al massimo tre, però comunque avere delle stanze in più che eventualmente uno adibisce a qualcos'altro, tranquillamente. Allora. Ella, qua entri in gioco tu. Allora, serviamo la colazione con l'omelette. Qui siamo appena a metà del livello sei. Molto bene. Preferirei appunto che lei guadagnasse con... Guadagnasse la composizione con la pratica, quindi effettivamente facendo le composizioni. Perché così guadagnavo anche soldi. Ci liberiamo non solo di fiori, ma scegliendo le... Le composizioni dove abbiamo i fiori. Ti affermo, che te coppo, te masso, niente te fasso, dice a me nonna. Stessi con le manine ferme, la mamma che ti ha creato. Ti ho detto di fare i compiti apposta per prendere tempo. Ok, lei ha fame. Ma se tu ti urca è troppo a disagio, addirittura. Guarda, gioca un po' con le bambole. Guardati qua. Hop. E vedi mo' come passa il tempo. Dicevo, quindi aumenterebbe non solo la composizione floreale, ma noi vendiamo le nostre composizioni e guadagniamo anche più soldi poi. Allora, tu vai in bagno. Tanto arriva lei, furba come una talpa. No, furba come una volpe, no, come una talpa. Però le talpe sono cieche, quindi non vedono che qualcuno sta preparando la colazione. Orca miseria, non ho neanche svuotato. Scusate che svuoto la bacheca delle notifiche in modo da... Ok, benissimo. Ora, adesso potete scendere a fare colazione, grazie. No, non prendere niente, c'è già qui. Vieni, vieni anche tu, lascia stare la casetta con le bambole. Dai che sono le 7 e 10. Orca miseria, lui deve anche lavarsi. Lui mi sa che non ce la farà a mangiare. Tu hai finito. In più la profumiamo come composizione in modo che valga di più. Ci siamo accorti di questa bellissima cosa. Non tutte forse, perché questa mi sembra che resti a 2,88. Però vabbè, noi ci proviamo. Va bene, andiamo avanti. Altra composizione, altro giro, altra corsa. Sarebbe bello, poi, poter anche ampliare un attimino la nostra collezione di fiori. Facciamo una cosa così. Vediamo un attimo se possiamo acquistare delle piante invernali, visto che adesso è inverno. E più che altro ricavarci piante che non abbiamo. Quello è il senso. Il bucaneve, questo non ce l'avevamo. E allora proseguiamo per di qua. Perché il suolo non sia troppo freddo. No, ok. Ce la facciamo. Non so se per la sua abilità di giardinaggio... Pianta. Allora, tu vai a lavorare, perché abbiamo a casa Ella. Quindi... Niente, non abbiamo trovato niente di nuovo, se non il bucaneve. Ok. L'ho risposto, così sta dove dico io. Va bene, non male. Comunque, dai, poteva andare peggio. In più lei, poveretta, è esausta, perché l'ho messa a fare... Composizioni come se non ci fosse un domani. Bambini, io ho bisogno che voi andiate a scuola, però. Anche tu. Anche tu. Ella, mi entri... Diego, lascia stare. Lascia stare. Ci pensa Ella. Vai a scuola. Oh, signore, terribile amarezza. Chi ti ha fatto un torto? Scusatemi, eh. Cioè, uno dei tuoi fratelli? Ah, sì, tua madre. Cosa ti ha fatto tua madre? Ti ha sgridato quando eri piccolo? Amore, lui. Allora, tu devi andare a lavoro, quindi vai. Mentre con Ella ci dedichiamo alla pulizia della casa. Adesso tu devi lavarti, assolutamente. Quindi ci laviamo. Sistemiamo quello che eventualmente c'è da sistemare. Lavatrici, non lavatrici. Adesso poi i robottini funzionano. E quindi quello è un enorme aiuto. Uh. Cioè, non so se perché effettivamente la lavatrice... La lavatrice... La doccia aveva bisogno di essere lavata. Questa sì, sono sicura. Si vede che è zozza. Forse anche questa. La lavatrice... Bo. Papà. Eh, no, devo fare le pulizie. Ma grazie della chiamata. Visto che ce l'ho, sto aspirapolverino. Lo utilizzo. Che bello, c'è un silenzio quasi naturale. Inoltre, volevo anche chiedervi una cosa. Giusto per avere la vostra opinione. Allora, se non ricordo male... Aspettate un attimo che controllo. La prossima generazione è Tiana. Che se sempre, se sempre, sempre che io non ricordi male, Tiana è nera come principessa. Allora, a me piacerebbe mantenere l'identità della principessa, cioè Tiana è nera, appunto, i fine. Questo però vuol dire che il principe di Cenerentola deve essere nero. Altrimenti, già verrà mulatta, perché c'è lei che schiarisce la questione. Altrimenti, se io manco prendo lui scuro, non mi viene fuori un bel niente. Voi cosa dite? Facciamo che manteniamo le varie etnicità delle principesse, quindi nel momento in cui toccherà... Mi sembra... C'è anche Mulan, può essere? C'è stato un attimo che guardo le varie generations. Anna Rappun... Mulan, sì, c'è anche Mulan, a un certo punto ci servirà il papà cinese, orientale, insomma. Jasmine è indiana, quindi il padre più orientaleggiante. Pocahontas, se andiamo avanti, oltre a Merida o Merida, chiamatela come volete, è più sugli indiani d'America. Sì, mi piacerebbe mantenere l'identità. Siccome fra, per esempio, Tiana, che è nera, e Mulan, ci sono una, due, tre, quattro generazioni, quindi abbiamo il tempo per... Perdonatevi il termine che sembra brutto, per schiarire la genetica, Altrimenti viene fuori uno smissiotto. Fatemi sapere voi come gestireste questi cambi repentini di etnicità. Li avete rispettati oppure, in alternativa, li rispettereste? Oppure... No? Vabbè, allora, sarebbe carino se Ella facesse anche, cucinasse anche la merenda. Ora, purtroppo noi abbiamo perso il giro del sonno, come si suol dire, e quindi dorme un po' a cazzo. Ecco, fatemi prendere un secondo una cosa per le bevande. Direi che forse questo è più consono. Sarebbe bello se tipo Ella, non dico tutti i giorni, però insomma quasi, cucinasse la merenda per i fratelli e per i figli poi. Ok, Bianca è tornata. Le facciamo fare una doccia veloce e la mandiamo a pisolare. Dobbiamo assolutamente riprendere il giro. E devo anche continuare con la sua aspirazione. Problema è che adesso che hanno sistemato un attimino la questione della polvere, non ho più polvere! E quindi non riesco a distruggere i battufoli e altro, quindi... Qui mi vengono posti interrogativi ai quali non so dare risposta. Ecco, tipo, adesso c'è la merenda, i biscotti con il tè. Per quello ho voluto prendere quella cosa lì, se funziona. Peccato che nessuno dei fratelli abbia fame. Beh, lui sì. No, il pacchetta nel pranzo è un sacco, scusate. Prendi una porzione e bevi. Quindi, anche lui, prendi una porzione e bevi. Non lo so, ogni tanto mi vengono ste idee, non so per quanto tempo ce la farò a mantenere la rotta, ma io ci provo e ci metto tutta la buona volontà del mondo. Dai, vai su con le lavatrici. Spostiamo questa. Oh, cosa ho fatto? Ok, molto bene. Intanto che la roba si asciuga andiamo a sistemare qua sotto. E dopodiché facciamo fare i compiti ai vari fratelli. Vendiamo quello che non ci serve. In modo che, insomma, guadagniamo anche due lire in più. Che bello, si è rotto il water di là. Molto promettente. Ah, sì, lui non ha neanche i compiti del liceo perché non è passato di età con il passaggio normale, se così vogliamo chiamarlo. Niente, questo mi tocca per forza fare, altrimenti. Quindi, glielo dobbiamo comprare. No, ci sono ancora quelli di Ella. Benissimo, allora fa i compiti. Niente, queste scale sono malefiche. Tanto belle per alcune questioni, tanto brutte per altre. Qui qualcun altro ha perso i compiti e suppongo sì a lui. L'avevo detto solo a lui di farli. Ma adesso lo diciamo anche a tutti gli altri. Perché qua, altrimenti... Risultate delle capre. E io non voglio dei figli barra fratelli capre. Allora, veniamo un attimo a riparare qui, va? E asciughiamo. Orca, si è rotto anche qua. Ci credo che devi asciugare. Usa. No, in realtà non doveva andare. Però vabbè. Ormai ho pigiato. Riponi. Allora, chi ha finito può andare a dormire o a fare quello che deve fare. Allora, tu... Sei in quale letto? In questo qua sopra, quindi vai pure. Tu hai finito? Sì, ok. Quindi... Che letto sei tu? No, sei qua sopra tu. Lui mi sembra avesse finito. Sì. Ok. Quindi... Morfeo, vieni a dormire. Eh vabbè, tu vai nel bagno sotto, perché ormai c'è già tuo fratello nel tuo bagno, quindi... Ecco, per esempio, la merenda oggi non l'hanno mangiata tutti, quindi magari domani non la facciamo. Cioè, ce l'abbiamo già. Quindi è inutile fare le cose 30 volte. Mamma bianca, vai a dormire, dai, vediamo di prendere il giro. Altrimenti qua non ne veniamo fuori, anche con ella cerchiamo di prendere il giro il più possibile. Domani mattina dobbiamo svegliarci, preparare la colazione. E sistemarla a casa, perché con tutte queste persone qua che ci vivono, figurarsi, adesso sta roba andrà tutta a mare, quindi è tutta da... Beh, guarda, comincio già. Potevamo anche guardare una serie televisiva da scemi, ma troppe cose da fare, troppa gente da controllare. Si fa fatica a stare dietro a tutti. 3,51. Ella è il tuo momento. Allora, e cucina? Prepariamo uova e toast stamattina. Ah, c'è anche questo da svuotare, è vero? Vabbè, ecco, calma, adesso facciamo tutto, eh. Posto, via! Via! Fila e fondi sottiletta! Era un tentativo, ma ho riuscito di fischiare. Ma proprio come se neanche mi ci fossi messa. Ma va qua che la casa non si sporca più. Adesso che mi serve la polvere! Porca miseria! Allora, mamma... Porca miseria! Guarda qua che roba! Mamma, alzati! Viene ad apparecchiare la tavola. Tempesta delle meraviglie! Ah, lei piace! Ok! Allora, Allegra, vieni! Pipì e doccia! Vabbè, è il bagno che preferisci, dovrebbe essere irrilevante. Anche tu, vieni! Dove scappi? Dove vai? T'abbona, vieni qua! State boni! Allora, facciamo che adesso... Oh, si sono svegliati tutti insieme! Allora, che poi sono veramente uno più furbo di quell'altro. perché c'è la colazione pronta sul tavolo e questi vanno a cercare roba da mangiare in frigo. Cioè, ma veramente per spiccaccia di secondo e nome. Cioè, incredibile. Dai, che è pronto! Figurati, Ella si sta abituando a preparare da mangiare e a gestire una famiglia così grande. Sarà uno scherzo gestire un paio di figli quando sarà il suo momento. Lo sto dicendo più a me stessa che a lei. Dai, chiacchieriamo! Com'è che era? Insegna a diventare responsabile? Cos'era? Discuti dell'umore stressato. Va bene, allora Bianca nel frattempo ha fatto colazione anche lei e vorrei che andasse a fare una composizione in modo da continuare il discorso che facevamo prima. Non solo per i soldi ma anche per l'abilità, eccetera. Chi manca la pelle? Eh, eh, Allegra, Allegra, ti sego le mani. Te le sego! Allora, noi prepariamo quei maccheroni e formaggio comunque, non è che li buttiamo via. Poi, però, li mettiamo in frigo. E dopo svutiamo il vassoio. Eh, mancavi solo tu, hanno mangiato tutti. Adesso poi è anche ora di andare, quindi... Allora, Bianca va a lavoro. Dai, andate tutti. Ah, maledetto tratto pigro. Ma va che lavori! Quanta roba in giro! Ma, cioè, io ho delle bestie o ho dei bambini a casa? No, no, non l'ho capita. In tutta onestà non l'ho capita. Vabbè. Vai a scuola, lascia stare! Cioè, ma cos'è sta smania di pulire e sistemare? A momenti non ce la manco lei che deve farlo. Vabbè. Allora, ripuliamo. Ma mi sembra non abbiamo molto da fare oggi. Mi sembra, eh, visto così. Vai a lavorare. A questa ci penso io a venderla. Dobbiamo sistemare qua. Se è tutto zozzato. Allora, la lavatrice può aspettare, ma non mi sembra ci sia niente di sporco. E allora, sapete cosa facciamo? Vendiamo noi la roba dell'orto. Insomma, non è necessario che lo faccia la mamma. Possiamo farlo anche noi, se è solo tirar su la roba e venderla. Lasciamo stare magari i fiori che quelli li, magari li tira su. Ecco, vabbè, le bocche di leone non è che mi servissero. Bianca è nel bel mezzo della creazione di una composizione floreale quando il telefono squilla. Quanto pare un organizzatore di matrimoni, niente di straordinario nel suo ambito di lavoro. O meglio, finché non dicono di aver bisogno che Bianca firmi un accordo di riservatezza prima che possano continuare la conversazione. Non capita tutti i giorni di vedersi proporre un contratto misterioso quando si lavora come fioristi, ma Bianca può confidare davvero nel fatto che terrà la bocca chiusa? Mmm, sì. 680! Una volta firmato l'accordo di riservatezza, l'organizzatore di matrimoni fornisce a Bianca tutti i particolari. Un celebre attore sta per sposarsi. E naturalmente le sue nazi eminenti sono sulla bocca di tutti. Stanno perfino creando un reality show che documenti il suo idillio turbinoso. In realtà, fuori dal negozio di Bianca c'è una troupe televisiva già pronta a filmare. Nell'episodio di oggi, l'attore inscenerà un litigio con la sua fidanzata dopo essere stato accusato di flirtare con Bianca, mentre sceglievano le composizioni floreali per il matrimonio. Vabbè! Sì, mi scoccia che abbia venduto sta roba, però che vi devo dire? Non sono riuscita... Cioè, l'ho bloccata in tempo, ma lei ha proseguito lo stesso. Vabbè. Ok, vendiamo la roba negli alberi qua davanti. No, 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 no! Madonna, ti scego le mani! C'è niente da fare. Bisogna scegliere albero per albero quando non si vuole che venga venduto qualcosa. Mi vendi salvie. Cos'è che mi ha venduto? Che magari se ce l'ho doppione qua davanti... Questo. No, i bucaneve non sono mai cresciuti. Ah, il crisantemo. Il crisantemo ce l'ho anche qua davanti. Sì, quindi lo prendo da qua davanti. Le rose, invece... No, non me le ha raccolte. Ok, vabbè, le lasciamo là comunque. Sta roba è in stand-by. Ok. E adesso vorrei cominciare... Arca, aspettate. Avevo anche questi prima che volevo togliere da qua, infatti. Liberarmi di un po' di robetta, onestamente. Ok. Dicevo. Vorrei iniziare a lavorare a maglia. Qualcosina. Pian pianino. Iniziare a dedicarmici. Sul water. Direi che sì. Ok. Quando hai finito, vieni a mixarmi la limonata, che quando tornano i tuoi fratelli gli facciamo far merenda, eh? Cosa dici? Visto che i biscotti li abbiamo da ieri, non serve neanche che perdiamo tempo a farli oggi. Mie, che pipi lunga! Ok. Cos'è che è sporco? Ah, questo. Ok. Ok. E questo poi lo esponiamo su Plopsie. In modo che, ehm... Magari, prima o poi, riusciamo a venderlo. Ora, dovremo avere il ritorno di massa. Ok. Allora, facciamo così. No, in pacchetta. Ah, lui ho fatto in pacchetta? No, prendi, ho fatto, ok. Vieni. Vieni. Tu hai bisogno di essere lavato, quindi via. E basta, al momento basta. Insomma, chi ha voglia di mangiare, mangia. Neanche. Io però una limonata me la berrei, vero Ella? Eh, sì. Ah, anche a lui è venuto a fame, allora. Ma dove vai, scusami? Cioè, ti avevo solo detto di mangiare un biscotto e bere un bicchiere, non ti avevo detto di fare chissà che cosa. Va bene, Bianca è rientrata, più incazzata che mai. Tirata in ballo, non le è piaciuto apparire in televisione, direi, no? Voi cos'è dite? Quando Bianca è andata al lavoro, era solo una fiorista. Ora è stata filmata come personaggio secondario in un episodio del reality matrimoniale di un attore famoso. I suoi capelli erano a posto, la sua recitazione è stata convincente. Non era pronta per tutta quell'attenzione improvvisa. Ah, santo cielo. Allora. Ah, troppo tesa. Ok, niente, abbiamo bisogno di guardare un po' di tv. Niente, io l'avevo vestita da esterno, convinta di farle fare un po' di attività di composizione floreale, ma a quanto pare non è possibile. Va bene. Allora, io vorrei così socializzare con i fratelli. Perché siamo una famiglia di centomila persone, eppure ci sentiamo soli come dei cani. Com'è sta storia che non ho capito? Ah, mamma, in due che fanno zapping su un televisore? La cosa non può finire bene. Comunque, guadagnare denaro. Mi aspettavo vincessimo i milioni di miliardi. Abbiamo vinto quattro lire. Ma scusa, eh. Ah, speravo qualcos'altro. Dai, cara, dai, raccogli tutto. Abbiamo cazziato tua figlia perché ci ha raccolto i fiori qua dietro. Eh, raccogli tutto, dai. Ma perché i miei figli, quando gli dico di andarsi a lavare, non vanno? Cosa incredibile. Ma io ti seguo le mani, porca di quella trottola. E adesso ripulisci anche. Vuoi dirlo? Dai, vieni. Che magari ne creiamo un'altra o altre due. Adesso vediamo un attimo come passa il tempo. Ma sì, anche se paghiamo 136. No, scambiata idea, scherzavo. Mii, come cambio idea in fretta. Ma porca miseria, sta cominciando ad essere difficile trovarne. Vabbè, 27 è un prezzo che posso pagare, dai. Sta cominciando ad essere difficile trovarne di gratis. Ora come ora. Allora, veniamo a far partire la lavatrice, dai. Non siamo addirittura d'arrivo ormai. Vediamo se i nostri figli hanno bisogno di qualcosa in particolare. C'è chi ha bisogno della doccia, chi di far la pipì. Magari la prossima volta partiamo un po' più avvantaggiati, ecco. Questa me la dà? Sì, adesso sì. Dove vai? Ho livello 7 di composizione floreale, molto bene. Oddio, e se io lo profumo? Ah, profuma con un fiore raro. Fermi tutti. Questo dovrebbe farmelo valere ancora di più? In teoria. No, sempre 862. Aspettate che spacco il sedere a mio figlio un attimo solo. Sì, beh, Ella è single compiaciuta. Sì, solo perché è diventata giovane adulta lo scorso episodio e non le ho ancora trovato marito. Anche perché, anche volendo, adesso, io posso anche crearle il marito. Prima fatemi sapere nei commenti il discorso dell'etnicità che vi facevo prima, eccetera. Va bene, si è rotto tutto. Però, anche volendo, posso farli conoscere ma non convivere, perché siamo ancora troppi. Quindi, eventualmente, posso sì, crearlo e farli conoscere. Allora, in conclusione, vi ripropongo il quesito sull'etnicità, se ve lo siete perso. Vediamo se riesco a essere un po' più concisa rispetto allo scorso, alla scorsa volta che ve l'ho detto. Insomma, a prima e anche... Allora, Tiana è la prossima generazione. Tiana è un personaggio di nero, cioè di pelle scura. Voglio essere politically correct senza... Senza risultare né troppo... No, cattiva. Senza far brutto, come si suol dire. Comunque, il personaggio ha la pelle scura. Nel corso della challenge, poi, ci sono altre principesse di altre etnicità. Vediamo, per esempio, Mulan, che è di etnicità cinese. Più avanti, la generazione dopo Mulan e Jasmine, di etnicità indiana. Poca onta, sindiana d'America. Vabbè, poi si alternano personaggi norvegesi, piuttosto che danesi, piuttosto che... Però, comunque, gli altri hanno la pelle bianca. Ora, se noi volessimo stare sullo standard della principessa, Cenerentola, per avere Tiana con la pelle scura, dovrebbe necessariamente avere un principe con la pelle scura. E comunque, Tiana verrebbe mulatta, verrebbe un misto. Le soluzioni sono due, o tre, forse, non lo so. Tre, credo tre. Soluzione numero uno è quella di far avere, appunto, un principe nero, nonostante Cenerentola nella storia non abbia un principe nero, e la figlia sarà, appunto, mulatta e andrà avanti. Soluzione numero due, non rispettare l'etnicità delle principesse. Tutti bianchi e basta, però non è che mi ispiri molto. Punto numero tre, adottare una bambina nera. Però, non credo che nella challenge sia contemplata l'adozione. Credo siano contemplati solo i figli, chiamiamoli biologici. Ad ogni modo, fatemi sapere quale delle tre opzioni, secondo voi, dovremo adottare. Non screditemi opzione 1, opzione 2, opzione 3, perché io fra due minuti mi sono già dimenticata cosa vi ho detto. Ditemelo per esteso, magari. Due paroline in più non guastano. E niente, io vi lascio qua per questo episodio. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi! Ciao a tutti!